Un saluto a tutti voi e ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione locale di TG Cosmos. Apriamo l'edizione del nostro telegiornale con la cronaca. Ieri pomeriggio un giovane potentino Fabio Telesca di soli 35 anni ha perso la vita mentre era alla guida della sua Toyota Yaris. Si è trattato di un violento schianto con un'altra auto, una Smart che proveniva dalla direzione opposta. Fabio che avrebbe dovuto sposarsi tra qualche settimana è morto sul colpo. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto hanno solo potuto confermare il decesso. E' stata trasportata invece al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo la passeggera dell'altra auto ricoverata in rianimazione con prognosi riservata. Al momento sulla dinamica dell'incidente indagano le forze dell'ordine. E continuiamo con la cronaca ma ci spostiamo nel nostro territorio. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina nella serata di ieri hanno arrestato un 22enne di Polla per il reato di detenzione ai fini di spazio. Ma facciamo il punto della situazione nel servizio a cura di Pierluigi Paciello. Nella serata di ieri i carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno arrestato un 22enne di Polla per il reato di detenzione ai fini di spaccio. Il ragazzo bloccato nel suo paese di residenza dopo un primo controllo all'autovettura ha manifestato da subito segnali di nervosismo. I militari del nucleo operativo radiomobile hanno quindi deciso di effettuare una perquisizione domiciliare durante la quale sono stati ritrovati 400 grammi di hashish suddivisi in quattro panetti. La droga sequestrata una volta immessa nel mercato avrebbe fruttato al giovane circa 8 mila euro di guadagno. Inoltre è stato sequestrato anche un bilancino utilizzato per la preparazione delle dosi. Il 22enne è stato arrestato e trasportato nelle camere di sicurezza della compagnia di Sala Consilina in attesa del rito direttissimo che sarà celebrato presso il Tribunale di Lago Negro. E continuiamo con la cronaca ancora furti nel Vallo di Diano. Nel mirino dei ladri la notte scorsa il bar Elliot, ubicato nella contrada Fonti sulla strada statale 19 che collega i comuni di Sala Consilina e di Padula. I ladri forzando una porta posteriore sono riusciti ad entrare all'interno del locale rubando tutti i soldi contenuti all'interno delle slot machine. Non particolarmente ricco il bottino in quanto dai primi elementi raccolti dai carabinieri della stazione di Padula e della compagnia di Sala Consilina che stanno indagando sulla vicenda ammonterebbe a poche centinaia di euro. E chiudiamo momentaneamente la pagina della cronaca, apriamo invece quella della politica. Il risultato del PD alle ultime elezioni europee in Campania è straordinario. Così il consigliere regionale del PD Donato Pica commenta l'esito delle elezioni di domenica scorsa. Il risultato dal Partito Democratico, continua Pica, va oltre ogni previsione rappresenta una chiara iniezione di fiducia per l'intero gruppo dirigente che in questi anni dall'opposizione ha contrastato le politiche del centro-destra sia in regione che in provincia di Salerno. Il PD continua, ha ora il compito di costruire una vera alternativa politica alla giunta Caldoro che in questi anni ha commesso errori madornali sulla sanità, sulla forestazione, sul mancato utilizzo dei fondi europei. I dati diffusi in questi giorni sulla qualità dell'assistenza sanitaria hanno certificato il fallimento di tutte le azioni messe in campo e che il PD aveva ripetutamente segnalato. Continueremo, conclude Pica, in quest'ultimo scorcio di consigliatura ad incalzare la giunta perché si affrontino i problemi del lavoro, delle giovani generazioni, della sanità, delle comunità montane e dei fondi europei, anche se il tempo rimasto è insufficiente per rimediare alle mancate scelte di questi anni. E continuiamo con la politica. A tornata elettorale conclusa è tempo di bilanci anche per Auletta. Nel piccolo centro salernitano fa clamore, fa sorridere il caso dei Mister Zero, ovvero quelli che non si votano nemmeno loro. Ma vediamo il servizio a cura di Antonella Citro. A tornata elettorale conclusa è tempo di bilanci anche per il comune di Auletta. Con 788 voti torna a sedere la poltrona di primo cittadino Pietro Pessolano, investito dalla consultazione popolare del suo secondo mandato. Entrano in consiglio Luigi Cavallo, che ha raccolto il record di 150 preferenze. Filippo Lupo, Antonio Adesso, Claudio Parisi, Onofrio Cocozza, Carmine Soldovieri e unica quota rosa Angela Cafaro. Per la minoranza due seggi vanno alla lista Solidarietà, Lavoro e Sviluppo, con a capo Carmine Cocozza, seguito da Antonio Caggiano. Tra i banchi dell'opposizione sederà anche l'ex vice sindaco Luigi Cagliardi. La spaccatura tra quest'ultimo e l'attuale primo cittadino, che nei fatti avrebbe dovuto favorire Carmine Cocozza, in realtà è risultata a tutto vantaggio di Pietro Pessolano. La cittadinanza ulettese ha dunque riconfermato la fiducia al primo cittadino uscente. Nessun seggio è andato invece a Nicola Pessolano. La lista Amiamo la nostra Auletta si è giudicata solo 22 preferenze. Per lo zio dell'attuale sindaco dunque una sonora debacle. Tuttavia un record l'ha conquistato e anche particolarmente caratteristico. Ben quattro membri della sua compagine non hanno ottenuto neanche una preferenza. Marco Cafaro, Luigi Di Lorenzo, Vito Guadagno e Antonio Zienna. Questi i nomi dei Mister Zero, i candidati che non hanno preso un voto, neppure il proprio. E riapriamo la pagina della cronaca, ci spostiamo a Laureana Cilento. Finisce male una lite tra due fratelli ad avere la peggio un uomo di 70 anni investito da un mezzo agricolo guidato dal fratello. Al centro della discussione sembrerebbe esserci un diritto di passaggio. Secondo l'uomo ferito il fratello non aveva diritto ad accedere mentre sull'accaduto smentisce l'aggressore di 68 anni, parlando di tragica fatalità. Tutto sarebbe iniziato ieri mattina intorno alle 8.30. Al momento l'anziano settantenne è ricoverato a Vallo della Lucania per diverse ferite lacero contuse e fratture in varie parti del corpo. Ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono giunte due ambulanze dell'Humanitas ed i carabinieri di Agropoli agli ordini del Capitanio Giulio Presutti. Sono scattate immediatamente le indagini affidate alla caserma di Torchiara per competenza territoriale. Non essendo gravi le lesioni, i carabinieri non hanno proceduto ad ufficio e pertanto spetterà all'anziano investito decidere se procedere. E continuiamo con la cronaca. I finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Agropoli coordinati dal procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania, il dottore Giancarlo Grippo, e dal sostituto procuratore, il dottore Alfredo Greco, hanno terminato l'ultima tranche delle indagini condotte nell'ambito dell'operazione Scuole Fantasma. L'attività eseguita in tutto il territorio nazionale ha riguardato un decreto di sequestro preventivo nei confronti di due fratelli titorali di istituti scolastici paritari, già oggetto di indagini da parte dello stesso reparto del corpo. Le complesse investigazioni condotte dalle fiamme gialle avevano già portato nel 2013 all'arresto dei due imprenditori e all'esecuzione dell'obbligo di firma per altre sette persone, tra coordinatori didattici, assistenti amministrativi e procacciatori di nuovi studenti provenienti da diverse regioni d'Italia. Nei mesi scorsi agli indagati è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, mentre ancora in corso nei confronti dei tuoi fratelli a capo del sodalizio criminale è investigato il procedimento di applicazione di una misura di prevenzione dinanzi al Tribunale di Salerno. E voltiamo decisamente pagina. Un weekend all'insegna della natura sarà quello del 31 maggio e del 1 giugno dedicato agli eventi conclusivi della Valle delle Orchidee a Sassano. La manifestazione giunta alla sedicesima edizione si appresta alla conclusione con un grande finale tra escursioni in montagna, passeggiati a cavallo, festival di musiche popolari e degustazioni di prodotti tipici. In merito abbiamo ascoltato ai nostri microfoni l'assessore Mario Trotta. Vediamo. Come sembra e com'è ormai da anni questa amministrazione, la nostra amministrazione ha inteso sviluppare il programma interessando sia il centro storico sia la montagna, quindi le orchidee. Quindi sabato sera è prevista la serata in piazza dove ci sarà uno spettacolo del maestro Tamipindo che quest'anno ovviamente non a caso avrà come oggetto dello spettacolo le canzoni avranno un tema o relativo ai fiori, quindi le orchidee, o alle biciclette. Quindi sarà uno spettacolo interamente dedicato ai fiori e alle biciclette. Ovviamente sarà possibile visitare la mostra dedicata a Fausto Coppi all'interno del Palazzo Babbino, sempre nel centro storico e ovviamente non possono mancare i prodotti tipici locali che saranno preparati dall'Associazione Settembre al Borgo. Mentre la giornata di domenico ovviamente è dedicata interamente alla montagna e anche quest'anno purtroppo, viste le previsioni in meteo dei prossimi giorni abbiamo diciamo prevendivato due piani, un piano A e un piano B. Ovviamente il piano A è quello che è relativo allo svolgimento della manifestazione proprio in montagna ovviamente dove il tempo sia buono e quindi ci saranno ovviamente le escursioni, le viste guidate alla valle, ci sarà intrattenimento musicale, di fatto ci sarà un gruppo di musici, esperto di musica popolare, in musica antica di mercato San Severino, ci saranno e sarà possibile come sempre fare le passeggiate al cavallo, ci sarà per la prima volta la randò delle orchidee che era stata prevista per il primo fine settimana di maggio e che è stata rinviata appunto sempre in considerazione delle avverse condizioni meteorologiche. Quindi sarà proprio l'arrivo della randonnée delle orchidee nella valle degli orchidee. Mi hanno già detto che in realtà saranno più di 100 biciclisti che parteciperanno a questa randonnée che partirà la mattina alle 7 da Sille e poi arriverà in montagna oppure allo chalet, questo ovviamente nel caso del piano B, nel caso in cui le condizioni del tempo non siano così buone, comunque la manifestazione si svolgerà presso lo chalet in località Vallepiana. Anche in questa seconda ipotesi comunque noi metteremo a disposizione in servizio navetta con guida per ovviamente accompagnare tutti i visitatori nella valle degli orchidee. Saggio finale oggi all'Istituto di istruzione superiore Pomponio Leto di Teggiano. Al termine del progetto PON esprimersi meglio teatrando, curato dai professori Cono Vertuccio e Franco Antonazzo con la regia dell'esperto Pasquale De Cristoforo. Gli studenti che hanno partecipato al progetto hanno messo in scena brani tratti dalla Mandragola di Niccolò Macchiavelli e da Oscar Fatiello di Edoardo Scarpetta. Nel corso della rappresentazione c'è stato spazio anche per la partecipazione del trio Effetto Smorfia, composto da Mario Antonazzo, Luigi Biscotti ed Arsenio Giordano, con tre spettacoli programmati tenutisi presso l'oratorio Don Bosco di Teggiano. E ci spostiamo nella Cilento. È partito ieri e si concluderà il 2 giugno la seconda edizione del Geofestival di Morigerati, le meraviglie della natura in festa. Cinque giorni dedicati alla scoperta della natura e della geologia nel Cilento, all'interno del Geoparco del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, in occasione della settimana dei Geobarchi Unesco. Antonella Citro. È partito ieri e si concluderà il prossimo 2 giugno la seconda edizione del Geofestival di Morigerati dal titolo Le meraviglie della natura in festa. Cinque giorni interamente dedicati alla scoperta della natura e della geologia nel Cilento, all'interno del Geoparco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. In occasione della settimana dei Geoparchi Unesco, il comune di Morigerati, che fa parte del Geoparco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ospita l'evento dedicato alla scoperta delle meraviglie geologiche e naturali. Un evento straordinario dal carattere culturale e turistico insieme che quest'anno ospita numerose scolaresche, coinvolgendoli in laboratori e discussioni tematiche con guide naturalistiche e geologiche. Ospite anche una scolaresca della Liguria invitata a conoscere il territorio cilentano. Una vera e propria occasione per mettere a confronto studenti di territori diversi. Ed ora una notizia di servizio. Maltempo in arrivo su buona parte dell'Italia, con piogge temporali soprattutto sulle regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo che prevede nel fine settimana precipitazioni diffuse. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate e frequente attività elettrica. Le temperature diminuiranno di 7-8 gradi centigradi rispetto alle medie del periodo. E ci spostiamo ora a Teggiano, un camion con a bordo un escavatore e trancia i cavi della Telecom che attraversano la strada e arreca danni anche ad un'abitazione privata. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in via Perillo III nel comune di Teggiano, arrecando problemi all'intera zona per l'interruzione della linea telefonica, danni consistenti subiti anche da un'abitazione privata per lo sradicamento del filo d'acciaio che ha diverto il muro di cinta. E la protezione civile di Vietri di Potenza, ieri mattina in concomitanza con il quinto anniversario dalla sua nascita, ha pubblicato online il video che riguarda la simulazione del ritrovamento di una persona dispersa a seguito della piena del fiume Melandro con supporto dell'unità cinofila. Ma vediamo il servizio a cura di Pierluigi Paciello. La protezione civile di Vietri di Potenza, ieri mattina in concomitanza con il quinto anniversario dalla sua nascita, ha pubblicato online il video che riguarda la simulazione del ritrovamento di una persona dispersa a seguito della piena del fiume Melandro con supporto dell'unità cinofila. Il video dura circa 15 minuti ed è stato realizzato in vari luoghi di Vietri di Potenza. Protagonisti, oltre al cane cinofilo, il pastore di Descobacco, sono i volontari della protezione civile di Vietri di Potenza che hanno realizzato questo lavoro grazie alla preziosa collaborazione dei volontari di Giaccheverdi di Bella in provincia di Potenza, Croce Amica di Caggiano di Salerno e dell'Ari Radiomotori di Potenza. E ci avviamo alla conclusione del nostro notiziario, ma prima di salutarci vi ricordo i nostri contatti www.cosmos tv per seguire la nostra programmazione in streaming, infochioccio lacosmos tv.it per il nostro indirizzo e-mail e il nostro contatto telefonico 0 975 20 68 28. Bene, con questo è tutto, a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione e per aver preferito anche questa sera l'informazione di TG Cosmos. Grazie per l'attenzione, a domani!